Siamo a Sarno, siamo a Villa Lanzara, una storia, una storia che il Comune sta portando avanti, la sta riscoprendo, la sta proponendo alla città e non solo. E noi siamo in compagnia del sindaco di Sarno, Villa Lanzara, è meraviglioso. Beh sì, è il passato, il presente e il futuro della città di Sarno da un punto di vista culturale. Abbiamo investito su questa struttura, che non è l'unica, perché insieme a Villa Lanzara fa parte di questa nascente fondazione il teatro e fa parte di questa nascente fondazione anche il convento San Domenico che sta su Arrampeterravecchia. Quindi è un mosaico che si sta incollando in modo tale da avere un centro culturale, anche in questo caso policentrico, che abbraccia tanti contenitori e ogni contenitore avrà una sua funzione culturale e sociale. Villa Lanzara credo che sia con i suoi giardini, sia il giardino piccolo che il giardino grande, dove stanno per completare i lavori del caffè letterario. Abbiamo ristrutturato con un fondo regionale la Casina del Custode, che diventerà il caffè letterario di questa splendida struttura, per cui Villa Lanzara nel prossimo futuro, cioè veramente a settimane, dovrà diventare museo civico, per cui in questa splendida cornice già è alloggiata, allocata la mostra Una Luce per Sarno e va il mio ringraziamento accorato al sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli, al professore Ernesto Terlizzi, che ha proposto, fortunatamente, ha proposto per la prima volta l'esposizione di oltre 100 opere di artisti nazionali e internazionali, l'ha proposta per la prima volta a distanza di 20 anni della tragica alluvione del 5 maggio 1998, l'abbiamo allestita per la prima volta nella città di Sarno, anche se a distanza di 20 anni, probabilmente dopo 20 anni, questa mostra, che è un'istantanea di tantissimi artisti, ripeto, nazionali e internazionali, colpisce tanti sentimenti, tante emozioni. Forse è unica al mondo per questo genere. Tutti gli artisti che si sono superati in bellezza, in stile, in originalità, hanno interpretato a loro modo una visione del dolore, una visione della tragedia, una visione del lotto. E poi si inaugurerà la mostra, già da qualche anno, che cresce sempre e si migliora sempre di più, del libro d'artista. E avremo tanti piccoli diamanti che saranno esposti in queste sale. L'inaugurazione dopo il convegno con la Colofon Art, che è una casa editrice di Vicenza Belluno, dove è specializzata nella strutturazione, nella costruzione di un libro d'arte. Lei sussica un po' la mia fantasia e il mio desiderio di conoscere e di vedere. Lei ha fatto riferimento alla chiesetta a Terra Vecchia, ha fatto riferimento a questo. Vogliamo fare un piccolo riferimento ad una chiesetta che si trova, credo, su in collina, in Monte Saretto. E poi c'è una torre che è una meraviglia, che si vede da lontano. Vogliamo pubblicizzare anche questi due luoghi che credono possano essere, se non lo sono già, i simboli di questa città che ha dato vita poi alla cultura dell'agronocino-sarmese. Beh, sicuramente, insomma, come dire, sia la collina del Saretto, sia le strutture che trovano la loro dimora, la chiesetta di San Martino, la chiesa della Madonna del Carmine, tutti i resti del castello medievale, certamente rappresentano il passato, un certo passato remoto della cultura sarnese, insomma, delle tradizioni sarnese. Voglio anticipare che abbiamo avuto di recente un finanziamento con un decreto della Regione Campania di circa 500.000 euro, proprio per la messa in sicurezza della collina del Saretto. È chiaro che noi abbiamo già un progetto, un preliminare definitivo, che ci servirà come Vademecum proprio per far sì che a questo progetto preliminare definitivo possa essere poi presentato per una non soltanto ristrutturazione dell'esistente. Voglio ricordare ai nostri concittadini che c'è stata una donazione del castello da parte della famiglia Apicella che ha donato il castello al Comune di Sarno, un atto deliberativo di qualche anno fa. Quindi, diciamo che deve essere definita, ma è diventato di proprietà del Comune di Sarno. Quindi, con i 500.000 euro che ci sono stati decretati, più circa 7 milioni e mezzo di euro per la risistemazione della comunità del Saretto, contiamo di centrare due obiettivi. Il primo obiettivo è quello di ripianare alcune situazioni che riguardano il dissesto idrogeologico. Il secondo obiettivo è quello di riconsegnare la collina con la sua sentieristica, con le sue chiesette, con il suo castello medievale alla fruibilità dell'intera cittadinanza e non solo. Questo è chiaro che certamente non è un progetto che si può... E' un progetto che adesso inizia, prende il via, ma certamente non è un progetto, vista la maestosità del progetto stesso, non è una cosa che si potrà realizzare nel breve. Questo riguarda la prossima consigliatura. Però, voglio dire, le basi iniziali di questo progetto ci sono. C'è il progetto, c'è il preliminare, preliminare definitivo che riguarda appunto tutta la collina del Saretto. Sindaco, la collina del Saro, la collina del Saretto sono colline che vanno attenzionate sempre perché, diciamo la verità, ci portano sempre ad un triste ricordo a cui ha fatto riferimento poco fa, cioè alla frana del 5 maggio. Ma noi non vogliamo parlare più di questo e alle nostre spalle pensiamo al futuro. Oltre al Montesare, c'è il centro della città. Un centro che comunque vive, come tutte le altre città dell'Agro, traffico ed anche inquinamento atmosferico. Guarda, io potessi vietare completamente l'uso delle auto, lo farei da domani. E' chiaro che quello che un sindaco desidera deve essere poi politicamente sposato da tutte le forze, non soltanto dalle forze politiche, ma deve essere sposato anche dai corpi sociali, quindi voglio dire dai negozianti, dai commercianti, dai cittadini, dalle categorie professionali. Noi abbiamo già un piano urbano del traffico che dovrebbe, stiamo aspettando, si aspetta, è stato pubblicato, quindi tempo 40 giorni per le osservazioni, dopodiché quasi sicuramente, probabilmente lo attueremo. Io dico che c'è bisogno di un'isola pedonale permanente, c'è bisogno soprattutto di disinquinare l'aria che respiriamo, perché la centralina, se due sindaci di questo territorio, il sindaco di Cava dei Tirreni e il sindaco di Nocera Inferiore, sentono l'esigenza dell'EZATL, addirittura su un percorso molto lungo, su un tratto molto lungo che mette in comunicazione Nocera, Scafati, Pompei, Nocera, Cava dei Tirreni, sentono l'esigenza di attenzionare il traffico e di limitare la portata veicolare, vuol dire che un motivo fondamentale c'è, perché non è che un sindaco o due sindaci o tre sindaci impazziscono e chiedono una limitazione del traffico pesante. No, ci sono dei motivi fondamentali. I motivi fondamentali è che noi sappiamo bene della centralina ARPAC che è posizionata a Nocera Inferiore e che controlla la concentrazione delle polveri sottili nell'atmosfera e che non controlla soltanto le polveri sottili a Nocera Inferiore, no, le controlla in tutto l'agro sarnese Nocerino. Ora, se questa è un'esigenza che sentiamo tutti, noi non possiamo, uso una metafora, cioè noi non possiamo avere la botte piena e la moglie ubriaca. Cioè, noi tutti quanti dobbiamo metterci in testa che uno dei motivi che sostengono tantissime malattie respiratorie e tantissime malattie neoplastiche a partenza dai polmoni o a partenza dal circolo ematolinfatico sono sostenute soprattutto dall'aria, cioè dall'aria che respiriamo, perché nell'atmosfera la concentrazione di polveri sottili è capace di erodere il marmo. È capace di erodere il marmo. E nell'atmosfera noi non respiriamo soltanto polveri sottili, ma respiriamo anche componenti di scarico del ciclo degli idrocarburi che sono amine aromatiche che sono pericolosissime per il midollo ossi, per il midollo sanguigno, per le cellule capostipidi che producono cellule specialiste nel sangue, nel nostro sangue. Quindi, noi prima prendiamo questa consapevolezza e questa coscienza di avere centri urbani dove possono circolare bambini, dove possono circolare mamme, dove possono camminare pedoni prima avremo un'attenzione alla salute molto elevata. Cioè, quindi, ma sarno, facciamo un esempio proprio banale, fermo restando chi viene da lavorate o chi viene da focia o chi viene da episcopia, dove mi rendo conto che effettivamente sono diversi chilometri e quindi posso capire l'esigenza di una mamma, l'esigenza di un commerciante, di un professionista che per spostarsi a fare due o tre chilometri deve necessariamente prendere un mezzo di locomozione. Ma non riesco a capire questo uso improprio e completamente inadeguato dell'automobile nel centro della città. Cioè, ma lo stesso codice della strada ci dice che ogni 400 metri l'uso della macchina è improprio. Quindi, volendo misurare un tempo di transito dall'incrocio di via Pedagnali con via Sodano all'incrocio della villa comunale a piedi ci vogliono dai 5 a 10 minuti. Ma voglio capire ma l'uso dell'auto ma in questi spazi così ristretti ma ha un suo uso razionale io in tutta onestà francamente penso proprio di no. E tra l'altro anche la mobilità a doppio senso di circolazione si è visto che non fa altro che concentrare in maniera abnorme la presenza di polveri sottili e materiale di scarico degli idrocarpuri. Quindi voglio dire prima aumenta la consapevolezza e la coscienza di tutto ciò prima pensiamo alla nostra salute e sicuramente pensando alla nostra salute limitiamo il rischio enorme di esporci ad agenti inquinanti che possono determinare gravi malattie per il nostro organismo. Già aggiungiamo anche che il camminare a piedi comporta conoscere meglio le pietre della propria città io dico sempre le pietre parlo le pietre sono la storia quindi ai cittadini delle città del lago facciamo un appello camminiamo a piedi io sono uno di quelli che usa sempre l'auto però ci dobbiamo convincere che camminare a piedi fa bene alla salute e fa bene anche per conoscere la storia delle nostre città Sarno è una delle città storiche del lago lucino sarnese lei ogni qualvolta io dico agro nocerino sarnese mi corregge giustamente aggiungo io agro sarnese nocerino perché a Sarno è nata la storia ma la storia di Sarno la vogliamo far conoscere un po' di più ai ragazzi delle nostre scuole? Ma la nostra storia è veramente una storia antica perché è Virgilio nelle Neide che cita il popolo fiero dei sarrasti quindi tra l'altro un popolo le cui origini sono tra i sanni degli etruschi quindi insomma voglio dire le origini di questo popolo sono veramente sono veramente antiche poi del resto basta soltanto ricostruire un percorso storico il nostro teatro nella zona Foce Fauces che non significa estuario del fiume significa bocca e poiché lì c'era l'antico bottaccio lì dove praticamente le sorgenti del rio Foce venivano alla luce da Fauces Foce insomma ma lì c'è un teatro ellenistico che è ancora più antico del teatro di Pompei quindi le origini della città ma del resto ogni civiltà umana è nata ogni civiltà è nata è nata lì dove c'è acqua insomma quindi quindi l'acqua poiché è in odore è in colore non ha sapore però è essenziale come tutte le cose essenziali molte volte noi le trascuriamo sono invisibili per cui intorno all'acqua sono nate le grandi civiltà quindi il popolo dei Sarrasti come tanti altri popoli ripeto Sannita Sannita Etrusca Etrusco quindi è un popolo antico se veniamo citati da Virgilio nelle Neidi e se ci sono resti importantissimi di un passato di un passato di un antico passato glorioso e onorevole ma insomma è scritto anche nel museo archeologico della Valle del Sarno basta soltanto vedere le urne cinerari o basta soltanto vedere i corredi che sono stati trovati nelle nostre necropoli per capire il grado dei civiltà di questo popolo io insomma il parco archeologico rientra nel piano urbanistico del comune di Sarno certo c'è un piano regolato un piano urbanistico comunale il PUC dopo 40 anni lo abbiamo finalmente realizzato è chiaro che all'interno del piano urbanistico comunale poi ci sono tanti altri diciamo sottopiani cioè sono i cosiddetti PUA noi abbiamo iniziato con il PUA tecnologico e poi ci sarà il PUA archeologico che riguarda la zona di Foce il PUA del centro storico che riguarda appunto tutta la zona della fascia pedemontana alle spalle del Saretto a partire da San Matteo fino a tutta la zona fino a via Piazza Croce via Domenico del Liguo cioè tutta la strada fino alla zona fino alla villa comunale oltre per cui tutta questa zona riguarda il PUA del centro storico e poi c'è un PUA naturalistico che riguarda tutta la zona di lavorate e tutta la zona di Torregatto di dove c'è il parco del Vosconi è chiaro che noi in questi anni abbiamo realizzato finalmente il piano urbanistico comunale stiamo andando avanti con il piano tecnologico è chiaro che poi nel tempo ci sarà anche un'attivazione di tutti gli altri piani che riguardano la città di Sarno Io ho parlato un poco di storia di cultura per introdurre l'argomento scuole perché insomma le scuole sono un centro di cultura un centro di apprendimento dove vivono tanti bambini e ragazzi per le scuole a Sarno al di là dei amici come siamo messi sindaco ma io credo che per le scuole a Sarno mai come in questo periodo siamo messi bene nel senso che abbiamo rivolto la nostra attenzione su due momenti cioè sulla programmazione scolastica e sulla realizzazione di scuole nuove e sulla manutenzione dell'ordinario è stato fatto uno sforzo senza precedenti in questi cinque anni non soltanto abbiamo fatto una normale manutenzione ma abbiamo messo su una rete di programmazione dove già ci sono dei progetti esecutivi tanto per dirne due c'è un progetto esecutivo per una scuola nuova ex nuova cioè da ricostruire da capo su due scuole sia sulla scuola di Masseria della Corte sia sulla scuola di Serrazzete lì ci sono due progetti che sono cioè sono già due progetti esecutivi progetti esecutivi che ci sono stati finanziati li abbiamo realizzati e stiamo aspettando la copertura finanziaria economica per la realizzazione di due scuole nuove la stessa cosa che cosa abbiamo e sono fiero di questo noi abbiamo riportato un ciclo un ciclo comprensivo dalla scuola elementare fino alla scuola superiore in episcopio erano vent'anni erano vent'anni che un'operazione di questo genere non si faceva nella nostra città far rivivere un centro come episcopio significa rafforzare tutti i presidi scolastici dal micronido fino alle scuole superiori cioè quindi micronido scuola elementare scuola scuola dell'obbligo scuola elementare e scuola media e superiore con due istituti superiori il Profagri che è un istituto tecnico agrario e il liceo scientifico questo in episcopio cioè noi abbiamo fatto una grossa programmazione sono fiero di aver sbloccato dopo circa 18 anni la cittadella scolastica tant'è è un'opera provinciale del cui importo di partenza è di 9 milioni però già vi anticipo che il secondo lotto il decreto già c'è e riguarda quasi 18 milioni di euro che si aggiungono ai 9 milioni che già sono in provincia per il finanziamento del primo lotto i 18 milioni che verranno dopo serviranno al secondo lotto la gara è stata giudicata i lavori sono iniziati c'è un movimento terra e poi chiaramente insomma saremo attenti a far rispettare un cronoprogramma nella realizzazione dell'opera che aspettavamo da tantissimi anni questo comporta uno sgravi economico perché lì dove in questo momento ci troviamo in fitto nel tempo rapido di uno due tre anni ci libereremo di una spesa in più ma non è stato fatto solo questo noi abbiamo otto progetti esecutivi esecutivi su tutte le scuole su tutte le scuole dell'obbligo di Sarno che vedranno aspettiamo soltanto i finanziamenti abbiamo fatto tutte le valutazioni sismiche aspettiamo i finanziamenti per mettere mano anche a tutto questo cioè questo lavoro di programmazione non era stato fatto negli ultimi quindici anni noi l'abbiamo fatto in questi cinque anni in questi quattro anni in questi quattro anni non soltanto abbiamo fatto un lavoro di programmazione per il prossimo futuro ma siamo anche intervenuti sulla D'Amicis stanno valutando le offerte per i vari studi che si sono candidati per il progetto esecutivo tempo 40 giorni il progetto esecutivo una volta affidata l'opera chiaramente il progetto esecutivo sarà realizzato una volta con il progetto esecutivo realizzato poiché abbiamo già la copertura finanziaria cioè noi nelle nostre casse comunali abbiamo già la copertura finanziaria per terminare una volta per sempre la scuola di Amicis e ricollocare la scuola dell'obbligo nella struttura sua iniziale che è appunto il plesso di corso a mendola la scuola elementare di Amicis quindi credo che nel giro di due tre mesi probabilmente riusciremo anche ad aggiudicare la gara per la esecuzione definitiva dei lavori senti però ha dimenticato una cosa si non ha accennato però poi non ne ha parlato sono tante le cose che abbiamo realizzato per cui me le dimentico pure lei ha annunciato l'apertura del teatro l'altra sera qui in queste sale molta gente quando ha saputo l'audizia ha gioito per Natale lei ha promesso che aprirà il teatro guarda allora i lavori annuncio all'interno sono quasi finiti sono quasi finiti adesso sistemeremo anche un po' la piazza piazza 5 maggio sistemeremo una parte di corso a mendola perché corso a mendola di per sé già dovrebbe essere chiuso al traffico va bene per cui facciamo una ripavimentazione di un po' di di calpestio che si è rovinato nel tempo ad opera di bus auto e via dicendo dopodiché per Natale effettivamente dobbiamo inaugurare il teatro e ci sono tantissime offerte io sono felice che tantissimi artisti nostrani sarnesi e non si stanno offrendo alla città alla città per per questa per per un'esibizione cioè è tale insomma il teatro è un simbolo è un simbolo enorme insomma è il simbolo dell'aggregazione per eccellenza insomma il teatro è il luogo dove si rappresenta la vita per cui è chiaro che anche tantissimi amici scrittori tantissimi amici musicisti tantissimi amici pittori insomma poiché poi il teatro è una struttura polietrica perché non è soltanto teatro insomma c'è una una sala enorme ci sono quindi si presta si presta magnificamente ad ospitare un po' di tutto ciò che fa arte quindi io sono felice quando sento voglio esibirmi per l'inaugurazione beh ci metteremo ci penseremo e vedremo come organizzare gli eventi che riguardano l'inaugurazione del teatro aggiungo ma sempre per scaramanzia perché una volta una volta realizzata la fondazione è chiaro che poi la fondazione camminerà con le sue gambe perché la gestione di strutture così complesse e complicate non può come dire essere portata avanti soltanto dalla struttura comunale perché la struttura comunale insomma è una struttura che già come dire con grande difficoltà assolve ai compiti normali ecco poiché è una fondazione che in prospettiva diventerà diventerà importante voglio ricordare che la signora Lucia Lucia Rea va bene figliola del grande Domenico Rea ha fatto dono di tutto l'archivio paterno a un centro studi Domenico Rea che farà parte attiva della fondazione voglio ricordare che l'Accademia delle Belle Arti diretta dal professore magnifico rettore Giuseppe Gaeta noi abbiamo stilato un protocollo d'intesa tra le strutture di questa nostra città quindi villalanzare il teatro e l'accademia quindi voglio dire noi abbiamo una prospettiva una prospettiva di crescita senza nulla togliere alla città di Sarno ma noi dobbiamo come dire fondamentalmente noi dobbiamo portare persone da fuori a Sarno perché è così che si promuove meglio l'immagine della città ma si promuove meglio l'immagine soprattutto il commercio della città cioè io è sempre un punto come dire fermo lavoro 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 e questo è lavoro cioè insomma chi pensa che con la cultura non si faccia lavoro ma sta fuori fuori dotta completamente perché attraverso la cultura si crea lavoro si creano posti di lavoro c'è un indotto diretto e indiretto una domanda anzi più una mia curiosità lei è stato presidente della provincia e fra qualche giorno giorno scadrà il mandato di presidente grazie grazie al suo compagno di partito il signor del Rio insieme a Renzi per una scellerata legge non ne ho mai fatto mistero fin dal primo giorno ho dichiarato che non poteva essere pensato disegno di riforma delle province più catastrofico di quello che è stato pensato probabilmente c'era qualcuno che aveva già diagnosticato una vincita del referendum e quindi aveva già soppresso le province nell'immaginario collettivo dove nell'immaginario collettivo le province qualcuno se tu chiedi ma la provincia esiste o non esiste beh insomma molte volte c'è qualcuno che dice ma ci sono ancora le province tanto per essere chiari quindi no le province fortunatamente ci sono ancora ci sono ancora ma deve essere necessariamente migliorata modificata quella legge per la verità c'è un referendum costituzionale che ha bocciato la riforma della provincia per cui bisognerebbe abbrucare tutto e tornare come prima io in tutta onestà nell'impalcatura della legge vedo qualcosa di positivo sicuramente affidare alle province cinque funzioni fondamentali credo che possa anche funzionare e funzionare beh che tra queste cinque funzioni fondamentali ce ne sono due che sono come dire di un impatto terrificante se penso alle strade penso alle scuole all'edilizia scolastica come dire ci possiamo già fermare sulle due la responsabilità la si è lasciata però i soldi che non sono arrivati le responsabilità sono come dire accollate sui presidenti delle province e sui vari dirigenti tecnici dell'istituto provinciale ma chiaramente non sono state accollate le necessarie e fondamentali risorse economiche per far fronte ai 110.000 km di strade delle province italiane ai 2500 km di strade della provincia di Salerno e senti bene ai ben 1500 trapponti e viadotti della provincia di Salerno quindi voglio dire certamente diciamo che purtroppo sono vicino ancora di più ai cittadini di Genova dopo la tragedia del Ponte Morandi che è costata la vita a 43 persone nessun cittadino di Sarno meglio di noi possiamo essere vicini ai cittadini di Genova capire la tragedia comprenderne la sofferenza il dolore il disagio e quindi a maggior ragione dopo una tragedia ci sono sempre tavoli di concertazione tavoli lo dico senza ma lo dico senza mezzi termini allora servirebbero servirebbero circa 15 miliardi di euro 15 miliardi di euro per sistemare per sistemare o meglio per fare una manutenzione ordinaria da adesso a 10 anni da adesso a 10 anni per tutta la manutenzione ordinaria dei ponti dei viadotti delle province d'Italia cioè ho scartato ho scartato come dire le autostrade perché come dire non sono perché non sono più di competenza ho scartato le strade dell'ANAS che sono di competenza dell'ANAS questo non l'ho detto io questo è stato detto intorno a un tavolo dove c'erano ingegneri che questo fanno 24 ore sul 24 quindi voglio dire noi o finanziamo una volta per sempre queste opere quindi stiamo parlando soltanto di strade non stiamo parlando di edilizia scolastica non stiamo parlando di edilizia scolastica perché soltanto con la provincia di Salena abbiamo 148 istituti scolastici 148 quindi noi stiamo parlando soltanto di strade allora io credo che un governo insomma un governo che si rispetti si rispetti dovrebbe effettivamente nei prossimi 10-15 anni investire soprattutto sulla manutenzione di strade sulla manutenzione di ponti sulla manutenzione di viadotti sulla manutenzione delle edilizie scolastiche cioè siamo intorno ai 20 miliardi di euro 20 miliardi di euro quindi voglio dire noi abbiamo queste problematiche però aggiungo aggiungo che dopo tantissime proteste anche da parte dell'Unione delle Provinci Italiane saluto anche il Presidente Achille Variati noi siamo anche riusciti ad ottenere dei piccoli risultati perché nei prossimi tre anni ad opera del passato governo per la verità noi abbiamo siamo riusciti ad avere circa 9 miliardi di euro 9 milioni di euro per la provincia di Salerno che poi saranno distribuiti nei prossimi tre anni dal 2019 fino al 2021 ma tutto ciò che è stato fatto sulle strade è stato fatto grazie all'impegno anche del Governatore De Luca che sulla spesa corrente ci ha riconosciuto un po' di soldi quindi fortunatamente in questi giorni sono partiti anche dalla Gerolina sono partiti tanti altri lavori per un importo di circa un milione e mezzo di euro più 2 milioni che ci sono stati già trasmessi nei 10 miliardi nei 10 milioni di euro nel triennio per il 2018 abbiamo preso 2 milioni e poi ne prenderemo 4, 4 e 4 se non ricordo male quindi c'è una boccata di ossigeno sulle strade della provincia ma resta tantissimo da fare resta tanto tanto da fare perché poi ricordiamoci che il 75% delle strade della provincia sono tutte in zona pedemontata c'è l'accordo di programma che abbiamo stilato con la regione campagna che mette a disposizione altri 100 milioni credo che per l'agro credo che a fine settembre metà ottobre fine ottobre poiché poi sono arrivati più di 1500 progetti quindi la commissione dovrà valutare la validità dei 1500 progetti anche analizzare 1500 progetti ci vuole anche un bel po' di tempo ma analizzare 1500 progetti è vero che ci vuole un po' di tempo se fossero tutti progetti esecutivi sì ma poiché penso che buona parte di questi progetti non siano manco dei preliminari ma siano dei disegni sulla carta credo che la commissione avrà gioco facile a eliminare quello che non è finanziabile per nulla sindaco quanto ha pesato la presidenza della provincia sull'essere sindaco di Sarno ha tolto qualche cosa la sua città oppure no ma io credo no io credo io credo che fondamentalmente non ha tolto nulla la mia città in tutta onestà anzi qualche opera è stata portata avanti e la si sta portando avanti anche grazie alla mia presidenza provinciale sono stato onorato di essere stato prescelto come presidente della provincia è un grande onore è innegabile che è un grande onore è una delle province più belle d'Italia campanilistica campanilisticamente parlando è la più bella è la più bella ho avuto modo in questi quattro anni di girarla quasi tutta ho visto i chilometri di costo ho visto l'interno che è altrettanto bellissimo tutto il parco nazionale del Cilento tutto l'alto Tanacro l'alto Calore tutta la zona del Vallo del Diano ho avuto modo insomma ci sono posti di una bellezza struggente ma del resto riconoscere alla provincia di Salerno patrimoni dell'UNESCO opere importantissime opere naturali create dal buon Dio come la costiera Malfitano o il parco naturale del Cilento oppure opere preziosissime come la certosa di Padula beh certamente non si riconoscono e poi riconoscere come patrimonio ideale la dieta mediterranea insomma non sono cose che si riconoscono a tutte le province d'Italia credo che la provincia di Salerno i parchi il parco i templi di Pestum quindi insomma quindi voglio dire abbiamo una una ricchezza storica storico-culturale talmente antica talmente bella c'è di tutto nella provincia di Salerno dalla natura all'arte dalla paesaggistica all'architettura all'archeologia alla pittura alla pittura al mare insomma dimentico poi come dire una parte importante che è appunto la costa che va tutta la costa campana sarebbe no ritorno a Salerno io sono l'innamorato della provincia ma ritorno a Salerno volentieri credo che sia stato tolto tempo a me e alla mia famiglia per cui insomma io devo innanzitutto scusarmi soprattutto con mia moglie e con la mia famiglia perché ho tolto tempo soprattutto a loro allora ritorniamo alla sua città a Salerno lei all'inizio della sua avventura amministrativa ha scelto i suoi collaboratori gli assessori siamo quasi alla fine di questo percorso alla fine di questa bellissima avventura che lei ha vissuto a Salerno io mi auguro che lei continui a vivere questa meravigliosa avventura da sindaco ha scelto degli ottimi collaboratori cioè i quali io credo che uno per uno lei alla fine dirà non solo grazie ma le abbraccerà a tutti è proprio vero e mi fa piacere che mi hai fatto questa precisa domanda sì beh insomma io credo che probabilmente nella storia della città questa stabilità ecco insomma di governo da parte dell'amministrazione da parte della maggioranza è stata molto forte insomma chi è andato via è andato via come assessori dico è andato via perché ha fatto una sua scelta personale mi riferisco al dottore Nicola Laudisio che ringrazio per il lavoro che ha fatto nei primi due anni ma ringrazio anche l'ingegnere Nello Corrado che ha lasciato per motivi professionali lo ringrazio per tutto quello che ha fatto ma gli assessori quelli cioè siamo partiti con quella squadra assessoriale arriviamo con la stessa squadra assessoriale nel frattempo due bravissimi assessori hanno lasciato ma per motivi per motivi personali di lavoro quindi quindi potevano tranquillamente restare sarebbero restati e avremmo continuato a lavorare in tranquillità ma io li ringrazio ringrazio intanto tutta la mia maggioranza ringrazio anche l'opposizione per determinate questioni dove abbiamo come dire votato all'unanimità quindi il PUC non ultimo il documento sull'emergenza sanitaria anche anche questo certamente ma poi devo ringraziare ad un anun tutti gli assessori a partire dal vice sindaco che è Dano Ferrentino Enzo Salerno De Asquillante Eutilia Viscardi Michele Ruggiero Lìa Esposito Gian Paolo Salvat tutti perché hanno con grande responsabilità il presidente del consiglio perché tutti con grande responsabilità hanno svolto il loro ruolo con impegno con passione con dedizione cioè non è che troviamo sempre tutti i giorni persone disposte a non guardare mai il proprio orologio a decurtarsi del proprio stipendio ricordiamo che come prima come prima azione di questa di questa maggioranza ci siamo decurtati tutti quanti lo stipendio del 50% e oltre e ci siamo e anche i consiglieri anche i consiglieri della stessa maggioranza si sono penalizzati quindi voglio dire non è di tutti i giorni trovare qualcuno che possa lavorare per 500 euro al mese e non guardare mai l'orologio e dedicare tempo su tempo ma noi siamo felici di averlo fatto perché quello che siamo riusciti a risparmiare lo abbiamo investito in borse di lavoro lo abbiamo investito in opere pubbliche lo abbiamo investito in videosorveglianza lo abbiamo investito anche in parte in spettacoli per la città credo che abbiamo fatto un uso buono di quello che abbiamo risparmiato quindi non siamo dei pentiti anzi siamo felici di aver agito in questo modo era una misura simbolica questa ma è una misura simbolica che credo serve attanto nella politica noi siamo stati più grillini dei grillini perché quando vado a vedere di quanto poi qualcuno dei grillini si è penalizzato io trovo un 20% un 25% un 30% voglio dire noi siamo stati grillini antelittera ma ancora prima di arrivare al governo dei grillini da parte di tanti grillini noi eravamo già al governo e ci siamo decurtati di oltre il 50% delle nostre prepe ma dico abbiamo fatto bene insomma abbiamo fatto bene a lavorare anche per coloro che vivono il disagio non erano borse di lavoro non erano posti di lavoro sia chiaro erano soltanto borse di lavoro che sono state impiegate in piccoli lavori di manutenzione ordinaria nei campi sportivi negli stati nelle attrezzature sportive pulizia del comune nelle scuole per esempio è stato apprezzato tantissimo da parte dei dirigenti scolastici l'avere l'opportunità di poter utilizzare materiale capitale umano da parte attraverso queste borse di lavoro che noi abbiamo istituito fin dal primo anno della nostra amministrazione quindi ripeto ringrazio tutti gli assessori per l'impegno per la passione per la costanza amministrativa per tutto ciò che hanno che hanno realizzato in questi in questi quattro anni e per tutto quello che si andrà a realizzare in quest'ultimo anno una per tutte lei ha parlato di voto unanime su alcuni argomenti che interessano la città da parte di maggioranza e minoranza l'altra sera avete discusso vi siete confrontati anche in maniera molto animata ma è molto vivace usiamo questo termine anche in maniera animata animata sull'emergenza sanitaria sul rischio che l'ospedale di Sarno sta vivendo per mancanza di materiale umano capitale umano io ci ho tenuto a chiarire che la sanità è un diritto costituzionale quindi va garantita a tutti i cittadini ma va garantita a tutti i cittadini di ogni ordine grato di ogni credo di ogni religione perché questo è sancito nella nostra Costituzione è uno degli articoli più belli e ho ribadito che certamente così come il bilancio viene ripartito attraverso le regioni non va bene non va bene e quindi anche a qualche elemento dell'opposizione che ha fatto anche scelte politiche non condivisibili ma rispettabilissime perché ognuno fortunatamente viviamo ancora in un paese libero in un paese libero dove la democrazia è reale quindi ognuno può fare le sue scelte io poi non le posso condividere ma perché sono un meridionalista convinto perché credo che il riparto come avviene il riparto del fondo del bilancio della sanità è ingiusto e iniquo e va contro la Costituzione perché non possiamo ripartire il bilancio della sanità in rapporto ai servizi che eroga una regione perché è normale che la Lombardia che eroga più servizi della Campania o della Calabria o della Sardegna o della Sicilia prende più soldi non è giusto è iniquo questo fa appugni con l'articolo della Costituzione che dice che la ridistribuzione del bilancio in sanità va fatta in rapporto alla densità abitativa va fatta in rapporto all'età va fatta in rapporto ai neonati agli adolescenti e agli anziani ma altrimenti noi abbiamo costruito un sistema che è profondamente ingiusto ma non in rapporto ai servizi perché è normale che se io ho la possibilità e ho avuto la possibilità nel tempo perché il riparto ha funzionato sempre così è normale che in Lombardia in Toscana in Emilia Romagna in Veneto troverai servizi 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 no un numero di servizi in più è chiaro che se io continuo a finanziare le regioni in rapporto ai servizi io prenderò sempre una lira in meno migliaia e migliaia di euro in meno rispetto a quanto prendono i cittadini del Friu tant'è che loro prendono 100 e passa euro io ne prendo 60 c'è una differenza di 50 euro e c'è insomma allora la politica quando scusami perché poi eh no ma perché poi certi ragionamenti insomma cioè noi stiamo parlando della carne e ossa dei cittadini cioè noi quando parliamo di salute parliamo delle persone e allora se tu fai una ridistribuzione del reddito che non è in rapporto alla densità abitativa io non soltanto vengo penalizzato pro capite ma vengo penalizzato anche nel senso che tu ti prendi in più rispetto a una densità abitativa che è che è di gran lunga inferiore alla mia densità abitativa quindi sono penalizzato due volte non va bene quindi voglio dire su queste cose si misurano i governi quando il governatore De Luca nelle sedi giuste conferenze Stato-Regioni dice queste cose e le dice le dice giustamente quanti dell'attuale governo dicono queste cose beh io credo che la Lega non le dice queste cose e quindi io che sono un meridionalista non potrei mai sposare la filosofia della Lega Siamo in conclusione di questa simpatica ghiacchierata fra poco meno di 7-8 mesi lei concluderà il suo mandato di sindaco in maniera confidenziale non ci facciamo ma si ricandiderà ma io ho tutta l'intenzione di ricandidarmi perché devo vedere questa città cioè la prossima consigliatura l'ho già detto più volte sarà quella di rifinitura cioè sarà quella come dire della città verde dei trasporti verdi della collina del Saretto che viene riconsegnata come parco alla città quindi c'è tutta un'opera adesso sulla manutenzione perché quello che abbiamo fatto in questi 5 anni sulla programmazione è stato utilissimo perché noi adesso utilizzeremo i fondi che ci verranno sui progetti esecutivi ed è una cosa straordinaria che non è stata mai fatta mai fatta quindi avremo questa grande possibilità di dedicarci nei prossimi 5 anni alla manutenzione ordinaria perché noi abbiamo bisogno come dire di tante piccole opere che risolvano l'affanno quotidiano dei cittadini di dedicarci ai trasporti locali locali quando dico locali significa proprio cittadini con un nuovo modo di concepire i trasporti con la green energy cioè tutto verde ai parchi urbani al parco al parco al parco del centro al puo storico al puo del centro storico al puo archeologico al puo del verde ai trasporti locali e soprattutto al ricavo dell'energia verde e al ricaduto e alla ridistribuzione su tutti i cittadini quindi vorrei realizzare nella prossima consigliatura queste opere ti ho anticipato il programma ti ho anticipato l'abbiamo già scritto è abbastanza semplice dopo quello che è stato fatto è abbastanza semplice sempre investimenti sulla scuola sulla fondazione io immagino questo museo civico una fucina tu hai visto giù ci sono i bambini delle scuole elementari delle scuole medie qua c'è l'archivio c'è la biblioteca c'è la ludoteca dei bambini io quando vengono i bambini ti dico guardate questa casa è vostra praticatela partecipate confrontate il giardino è vostro non è noi l'abbiamo soltanto vivetelo io ho voluto chiudere con una notizia che riguarda un giornalista che è stato ammazzato qualche anno fa parliamo di Siano allora quando prima voi accoglierete e presenterete i libri di Paolo Siani fatti di Camorra questo va a tutto ad onore vostro beh sì questo questo va a onore della città del nostro territorio perché è il nostro territorio che deve mettere una barriera insomma tra l'illecito l'illegale le organizzazioni maravitose e la conduzione del governo di una città credo che questa coscienza questa consapevolezza sia molto forte e settembre libri come dire insomma si conclude a giorni sia con la inaugurazione della mostra di domani mattina sul libro d'artista e sia appunto con la presenza del fratello di Giancarlo Siani Paolo Siani che verrà a presentare siamo onorati di ospitare Paolo Siani Giancarlo Siani è una grande figura di giornalista giovanissimo giovanissimo che ha avuto un coraggio enorme in quegli anni in quegli anni cioè insomma abbiamo avuto il magistrato il presidente Alemi che l'altro giorno ha incontrato un'interessante presentazione del suo testo ma anche anche il dibattito che poi è venuto fuori con i ragazzi con i ragazzi del fermi è stato interessantissimo Alemi diceva a schiena dritta beh a schiena dritta lui è stato l'unico ad avere il coraggio di andare avanti insomma devono devono cambiare ancora tantissime 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 cose però certamente certamente e concludiamo questa quando poi sento cioè la corruzione non si non si non si non si combatte con nuove leggi non si combatte con nuove leggi la corruzione si combatte con la tracciabilità del danaro non c'è altro sistema con la tracciabilità del danaro si combatte la corruzione e si combatte tutto ciò che poi deriva dalla corruzione quando invece poi sento che la tracciabilità cioè di evasione fiscale non se ne parla proprio più non se ne parla proprio più ora forse probabilmente dico una cosa anche che come dire mi rende ancora forse mi rende impopolare ma noi abbiamo un'evasione sull'iva di 36 miliardi di euro cioè quante manovre finanziarie vuoi fare con 36 miliardi di euro quante e abbiamo ancora un'evasione fiscale nera nero di 120 130 miliardi di euro accogliamo insieme arriviamo a 160 170 miliardi di euro ma questa ricchezza dove sta dove sta questa ricchezza allora io dico cioè è possibile mai è possibile mai ora abbiamo tutte le banche possibili immagini banca dell'imp possiamo intrecciare tutti i dati possibili immaginabili cioè noi abbiamo ancora bisogno di fare appugni per una manovra finanziaria per trovare 20 30 40 miliardi di euro a me sembra impossibile credo che sia incredibile quindi io credo che l'unica cosa necessaria indispensabile per combattere la corruzione è una riforma fiscale sedia soprattutto e soprattutto la tracciabilità del danaro contante io lo dico cioè io sto dicendo una cosa che so bene che non fa piacere ma non farà ma è possibile Pierì cioè questo non è un dato mio questo è un dato istat cioè che a dichiarare più di 100 mila euro all'anno sono poco più di 30 35 mila abitanti 30 35 mila cittadini italiani ma a te sembra possibile una storia del genere io su queste parole la voglio salutare e fare i migliori auguri in bocca al lupo grazie viva il lupio viva il lupio